Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penna in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Dove è stata accumulata la ferita dell'inquinamento ci sia la riparazione con una bonifica integrale. Questo sarà il segno che è dovuto come giustizia e apertura di speranza. Il Signore risvegli i cuori al senso di responsabilità e conceda un futuro alla nostra terra perché essa possa restare per tutti casa abitabile, spazio di vita per le generazioni presenti e future. Si conclude così la nota della conferenza episcopale abruzzese e molisana sulla situazione di bussi che per la contaminazione delle matrici ambientali nei pressi degli impianti e nelle aree limitrofe è stata definita la più grande discarica di rifiuti chimici di tutta Europa. I vescovi abruzzesi e molisani sottolineano nel documento l'inquinamento in Val Pescara ha provocato gravi danni all'ambiente e a molte persone e continuerà a provocarne se non si pone riparo con una bonifica integrale che risani l'ambiente. I vescovi ricordano inoltre la loro presa di posizione del luglio 2008, i pronunciamenti della conferenza episcopale italiana e quello di Papa Francesco che il 21 maggio scorso disse Dobbiamo custodire il creato perché è un dono che il Signore ci ha dato. È il regalo di Dio a noi. Noi siamo custodi del creato. Quando noi sfruttiamo il creato distruggiamo il segno dell'amore di Dio. Distruggere il creato e dire a Dio non mi piace e questo non è buono. Ecco il peccato. Dio perdona sempre. Noi uomini perdoniamo alcune volte ma il creato non perdona mai e se tu non lo custodisci lui ti distruggerà. Il testo integrale della nota dei vescovi abruzzesi e molisani è riportato sulla nostra pagina Facebook. Dunque potete leggerlo cercando Radio Speranza su Facebook. Decine di migliaia di cittadini per decenni dovranno convivere con il rischio sismico derivante dallo stoccaggio gas poggio fiorito. Secondo il Ministero dell'Ambiente ricordiamo che in profondità sarebbero stoccati fino a 157 milioni di metri cubi di gas che sarebbe immesso nel sottosuolo in pressione in estate e pompato in superficie in inverno. E questa è la conclusione del forum dei movimenti per l'acqua abruzzesi diffusa tramite una nota. Lo stoccaggio gas riguarda la provincia di Chieti. Nuova iniziativa della provincia di Pescara per sostenere il sistema produttivo del territorio. Attraverso le risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo con l'avviso voucher di innovazione vengono finanziati interventi formativi per aiutare le imprese e i loro lavoratori e manager ad introdurre elementi di innovazione organizzativa e gestionale, tecnica di processo o di prodotto volti a facilitare il superamento dei problemi interni e a rafforzare la competitività delle aziende. Si possono finanziare fino ad un massimo di 4 voucher aziendali per un importo complessivo che non superi i 20.000 euro per azienda sulla base del numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato, inclusi gli apprendisti. Chiude per una notte il casello Chieti-Pescara sulla A25. Dalle 22 di domani, mercoledì 9 alle 7 di giovedì 10, lavori al manto d'asfalto sulle rampe d'accesso, consigliati in entrata da Chieti-Pescara verso la A25, la A24 Roma-L'Aquila, ingresso a Manopello, verso la A14 ingresso sulla A25 a Villanova. In uscita ai veicoli diretti dalla A25 a Chieti, uscita a Manopello per Pescara si esce a Manopello verso Chieti, scalo per l'asse attrezzato, oppure per chi proviene dalla A14 bisogna proseguire sulla A25 e poi uscire a Villanova. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno effettuando in queste ore a Montesilvano il sequestro di unità immobiliari per un valore di oltre un milione di euro appartenenti a Rom. Il blitz di oggi effettuato nell'ambito dell'applicazione della legge antimafia segue altre operazioni analoghe condotte dalle forze dell'ordine a Pescara e in provincia. E sono terminate giovedì 3 luglio le riprese del film breve Corri Giulio Corri, seconda regia di Giacomo Farano, tra i protagonisti l'attore pescarese Francesco Sarmiento, premiato come miglior attore protagonista al New York City International Film Festival e Rossella Brescia. La sceneggiatura, firmata dallo stesso regista, riflette su alcuni aspetti sociopolitici del nostro paese, i movimenti politici, la precarietà e il denaro. Il film è una provocazione ipotetica ai liberi contestatori dei tempi moderni. Grazie al mecenate Alfredo Paglione, cognato dell'artista, la Regione Verde d'Europa, cioè l'Abruzzo, si arricchisce di altre cento opere di Aligi Sassu. Sarà l'Università d'Annunzio di Chieti ad ospitarle grazie alla donazione dal titolo Aligi Sassu, l'immagine della parola. Dall'autunno prossimo le cento opere grafiche originali realizzate da Sassu tra il 1967 e il 1992 saranno collocate nel Centro di Eccellenza per lo Studio dell'Invecchiamento. Ma già dal 17 luglio, anniversario della nascita e della morte di Sassu, due selezioni saranno visibili nel Museo Universitario e nella sala consigliare dell'Ateneo. Terzo appuntamento con il Flaiano in piazza che dal 7 al 19 luglio anima alcune tra le piazze principali della città di Pescara. Domani, 9 luglio, sarà la volta del quartiere di San Donato, via Riosparto, dove alle 21 sarà proposto un piano perfetto di Pascal Schomei. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 23 a 28 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 21 gradi e mezzo a 29 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia. E da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87 e 6 MHz. E su www.radiosperanzapescara.it. Ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.